Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, tra le tante notizie che vengono raccontate poco o male dai mezzi di informazione italiani vi è sicuramente l'ondata di scioperi, di proteste, di manifestazioni che sta travolgendo la Francia, che sta scuotendo la Francia negli ultimi mesi. In Francia i sindacati, in Francia i partiti di opposizione, in Francia il movimento studentesco, i pensionati, in Francia i movimenti sociali stanno contestando duramente il governo Macron e la sua decisione di aumentare l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Come al solito in Italia tutti i mezzi di informazione hanno come punto di vista quello della necessità di aumentare ovviamente l'età pensionabile perché si è allungata la vita media, il disavanzo pubblico, le casse dell'Inps sono poi vuote e dunque bisogna lavorare di più per pagarsi maggiormente appunto la pensione per permettere poi di avere una pensione. Avete questa retorica in Italia attecchito, tant'è che in Italia non c'è una patrimoniale come c'è ad esempio in Francia sulle grandi ricchezze per poter recuperare ovviamente denaro, per recuperare fondi, perché ad esempio in Italia non c'è assolutamente una politica per ridare fiato e forza ai salari e salari poi più alti sono anche poi dei contributi più alti che gli stessi lavoratori versano per avere la pensione. Qui in Italia si è un po' accettata la narrazione secondo la quale bisogna lavorare tanto, tanto di più per potersi pagare la pensione. Dunque di andare a prendere i soldi dove ci sono, la lotta ovviamente all'evasione che ripeto in Italia non è condotta o è condotta male, male, poco perché altronde sull'evasione fiscale si vincono le elezioni spesso e volentieri, poi in Italia non c'è nessuna intenzione ovviamente di andare ad inserire fasce ad esempio di tassazione più elevata per chi supera i 100.000, i 200.000, il milione di euro all'anno di reddito. Perché? Perché? Perché invece in Francia non è così, ci sono in Francia e in Germania, tassazioni più elevate ad esempio per i grandi patrimoni, prima grande che poi in Francia e in Germania c'è anche un tasso di evasione fiscale molto molto bassa e dunque c'è una fetta di popolazione grande che partecipa alla contribuzione. Il fatto sta che per tanti motivi, su cui magari poi tornerò, in Italia c'è un piattume sociale rispetto al tema delle pensioni e dei salari, i scioperi per l'aumento del salario, i scioperi per contrastare l'aumento dell'età pensionabile, per contrastare anche queste pensioni da fame che abbiamo in Italia sono molto pochi. I motivi perché appunto c'è lavoro in nero, motivi per cui c'è un welfare familiaristico, i motivi sono tanti perché sindacati troppo concertativi mentre i sindacati francesi sono meno forti nei loro apparati statali, nel loro legame con gli apparati statali, nei loro legami con le istituzioni e ora sono più battaglieri. Il fatto sta che per tanti motivi noi italiani abbiamo di fatto rinunciato a fare grandi battagli intorno alla tematica del lavoro, alla tematica della dignità del lavoro, del salario, delle condizioni di vita all'interno dei luoghi di lavoro. I francesi resistono un po' di più, la Francia è comunque una terra di insurrezioni, di rivoluzioni, di riforme, di radicalismo, una terra dove comunque c'è una dialettica molto forte tra cittadinanza e governo, è una terra che di rivoluzioni ne ha fatte tante, dalla rivoluzione francese in avanti, soprattutto nell'Ottocento la Francia è stata la terra dell'insurrezione delle rivoluzioni e anche nel Novecento ha prodotto comunque esperienze politiche interessanti di cambiamento e di contestazione rispetto appunto al potere. Perché la democrazia non deve calpestare i lavoratori, perché la democrazia non deve calpestare i cittadini, perché la democrazia è vero che è elezione, Macron dunque ha vinto le elezioni e Macron dunque è il Presidente della Repubblica e Macron dunque è il leader di un governo anche. Però poi mentre sia l'opposizione si fanno battaglie, si dà battaglia, cosa che in Italia accade molto molto di raro, c'è una concertazione, c'è un governo di larghe intese, in Italia c'è di fatto una assuefazione, tutti anzi che buttano acqua sul fuoco, non ci deve essere conflitto sociale, armonia, concertazione. I nostri vicini francesi invece stanno mettendo in scena un'ennesima prova di forza contro il governo, ma come hanno già fatto contro altri governi. Quello che mi spaventa è che i nostri mezzi di informazione non raccontano queste notizie perché vogliono di fatto educarci all'immutabilità, l'ideologia del presente e della realtà, l'ideologia dell'immutabilità della realtà è la più grande garanzia per le classi dominanti per perpetuare il potere, per mantenere il potere. Se i cittadini, i lavoratori interiorizzano l'immutabilità della realtà perché tanti rapporti di forza, perché tanto l'economia, le decisioni, tutto è lontano, tutto è modificabile, tutta la storia è sulla nostra testa e noi la subiamo. Se noi interiorizziamo questo, vuol dire che la talpa ha scavato, non la talpa rivoluzionaria, ha scavato bene la talpa della classe dominante, delle classi che sono al potere, che dall'aumento delle pensioni, che dall'aumento chiaramente delle ore di lavoro, che dalla diminuzione dei salari, che dalla precarizzazione e frammentazione del mercato del lavoro ci guadagnano. Poi in realtà hanno detto che vada sempre così, perché in questo momento in Italia c'è bisogno di lavoro e dunque ci sarà probabilmente anche bisogno di trattenere i lavoratori con un salario più alto a un certo punto perché stiamo veramente raschiando il fondo del barile. Il fatto sta che in Italia però prevale questa narrazione, anche in Francia ci hanno provato, anche in Germania, in tutte le parti del mondo il potere prova a narrare l'immodificabilità del presente, addirittura di sacralizzarlo il presente, lo fanno le religioni che vanno al braccio con il potere, sacralizzando la realtà o rendendola ideologicamente immutabile, cioè tu la narri come immutabile, ecco che il potere si preserva senza dover neanche mettere in campo molti apparati repressivi per il mantenimento del potere. Invece in Francia, ripeto, come finirà, abbiamo l'ennesima grande mobilitazione. Si parla di ieri di 300 città, si parla di 2 milioni di manifestanti, 300 città in manifestazione, in mobilitazione e con anche tanti scontri, con anche tanta violenza sulle cose. E devo dire che il dibattito francese sulla violenza durante questa manifestazione è un po' diverso dal nostro e che la gendarmerie interviene, perché la polizia francese non le manda sicuramente a dire, è molto dura. Però sono dinamiche anche di scontri che non vengono affrontate con quel paternalismo o moralismo tipico dell'Italia, perché i danni alle cose sono un po' sempre danni alle cose, non sono danni alle persone. E negli scontri, nelle manifestazioni può capitare, è capitato ai nostri nonni, bisnonni, tresnonni, nell'Ottocento, nelle barricate per il pane, per la farina, per il latte, per la democrazia, per il diritto al voto. Solo oggi pensiamo che non ci deve più essere una conflittualità, ma senza conflittualità, che deve rimanere il più possibile chiaramente nell'interno di regole democratiche, ma senza conflittualità, noi uccidiamo l'anima della democrazia, perché la democrazia si basa sul conflitto e il resto non è democrazia, ma è uno scimmiotare la democrazia. E i francesi ogni tanto ci ricordano che la democrazia ha un prezzo e questo prezzo lo si difende anche nelle piazze, nelle manifestazioni, nelle mobilizzazioni, lo si difende mettendo in campo una soggettività radicale, una soggettività non assopita. Dunque io penso che la Francia possa fare ancora una volta scuola rispetto alle tematiche dell'ambiente, rispetto alle tematiche del lavoro, del salario, delle pensioni. La cosa migliore è per il poto non raccontare tutto ciò o fare vedere una vetrina rotta, non raccontare di milioni di francesi in piazza contro Macron e contro un'idea di Europa neoliberista, di un'idea di un'Europa in cui i cittadini e i lavoratori sono delle merci al servizio di un progetto economico, ripeto, che si fonda sullo smantellamento del welfare, che è il migliore del mondo, quello europeo, sulla privatizzazione dei servizi, sulla concorrenzialità che di fatto indebolisce, concorrenzialità che indebolisce molti in realtà settori, che li porta a questi settori. Tu vuoi fare la concorrenza sulle istruzioni, vuoi fare la concorrenza sulla sanità, vuoi fare la concorrenza su alcuni beni pubblici, ripeto, anche sui trasporti, visto il disastro delle privatizzazioni delle ferrovie inglese. Tu certe privatizzazioni, certe concorrenzialità le costruisci, ok? Su che cosa? Sulla lotta tra poveri. Le costruisci smettendo appunto poi queste imprese in competizione tra di loro, non sulla qualità del prodotto, ma sull'abbassamento del costo del lavoro. Se noi ragioniamo in questi termini di fronte a quello che sta accadendo in Francia, è possibile che possiamo ridare anche dignità in Italia a una stagione di lotta, ma di lotta per il salario, di lotta per un lavoro di qualità, per una pensione. Oggi bisogna parlare di riduzione dell'orario, parità di salario, ridurre le giornate lavorative, c'è bisogno di meno lavoratori, c'è bisogno di meno lavoro, la ricchezza prodotta è tanta, il problema si chiama redistribuzione della ricchezza. In questo paese, l'Italia, non ne puoi parlare, perché appena ne parli sembra che sia in atto un esproprio proletario. Allora andiamo avanti così, nel non distribuire, o al massimo fare un po' di molemosine e carità, andiamo avanti a costruire questa grande Italia di sudditi, non è detto che però tutto ciò regga per sempre, io spero invece che ci sia una presa di coscienza delle condizioni amare, umilianti, in cui si trova il lavoratore italiano e la lavoratrice italiana. Serve una grande stagione di lotta, di lotta del lavoro, serve l'inizio di una nuova stagione per mettere al centro tutte le tematiche del lavoro giovanile e non giovanile, al centro delle politiche, di governi che se ne infischiano di queste tematiche, i governi passano a condizioni dei lavoratori, peggior anno dopo anno.